51 morti nell'ultimo attentato in Turchia, 29 di questi erano bambini. L'esplosione è avvenuta durante una festa di nozze kurda a Gaziantep nel sud del paese. A compiere l'attacco sarebbe stato un ragazzino di età compresa fra i 12 e i 14 anni. E la protesta contro il terrorismo si è fatta sentire, forte. Centinaia di persone sono scese in piazza a Istanbul per urlare la propria rabbia, anche dopo l'omicidio di Hans Kader, transessuale leader del movimento gay, uccisa all'inizio del mese.